In attacco ad adattarsi sull'aggressività difensiva di Reggio Emicuo con quel bel passaggio smarcante Per più di così non si poteva fare in difesa su un Kaukenas che ha delle linee di corsa davvero uniche Attenzione c'è spazio per Crosariol la schiacciata La difesa reggiana completamente fuori equilibrio 37 anni Kaukenas, 30 Uiacic Schiacciata a terra via l'assist di Vitaly per Crosariol